interessante secondo me la scelta di far fare esperienza adesso in modo che cosa no no stavo guardando la cam mi è sfuggita non ero focalizzato sulla cam non sono sicurissima mi sembrava di aver visto però forse è passata l'immagine di tea no in realtà di spalle ma non so adesso lei lei che stai vedendo di spalle però prima c'era mostrata no non è tea no questa di spalle potrei dire che non è tea mi sembra l'indiana no se non sbaglio sì dovrebbe essere tania sachter esatto vabbè farei una brutta figura se fosse stata tea avrei detto no non è tea non l'ho riconosciuta